La chiesa di Sant'Agata alla Rocca è un edificio sacro di Chiusi della Verna, che si trova in località La Rocca. Si ritiene che il piccolo borgo fosse un caposaldo delle linee difensive bizantine durante l'offensiva a Longobarda tra il VI e il VII secolo. La stessa chiesa è intitolata Sant'Agata. Dedicazione cara alle guarnigioni ostrogote nella cintura difensiva bizantina, adessale probabilmente al VII secolo, forse da parte dei monaci di San Colombano. Più volte ricostruita a una semplice struttura a capanna, il campanile a vela conserva una campana del 1240. All'interno è conservato un crocifisso ligno di Franco Cardinale. Sant'Agata nasce tra il 229 e il 235 a Catania e muore il 5 febbraio 251 nella stessa Catania. È stata, secondo la tradizione cattolica, una giovane vissuta nel III secolo, durante il preconsolato di Quiziano. Viene venerata come santa, vergine e martire dalla chiesa cattolica, dalla chiesa ortodossa e dalla chiesa anglicana. Il suo nome figura nel martirologio romano da tempi antichissimi. Viene ricordata il 5 febbraio e patrona, tra l'altro, di Catania, Gallipoli e della diocese di San Marino in Malta. Dopo la Vergine Maria è una delle sette vergini e martiri ricordate nel canone della Messa. Nel piccolo borgo è possibile ammirare anche l'opera di Franco Cardinale, il Cristo della Rocca. Un crocifisso senza croce, sospeso in un cosmo di materia di luce, un olio su tavola di grandi dimensioni.